Benvenuti nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulle serie turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Nelle puntate della prima stagione di Endless Love, nuove e sorprendenti svolte vedono che Mal prendere decisioni cruciali sul proprio futuro sentimentale. La sofferenza per le calunnie di Nian nei confronti di Zeynep porta Kemal a una rottura definitiva, spingendolo verso un nuovo inizio con Asu. La rottura definitiva con Nian. Kemal scoprirà, tramite Asu, che Nian ha accusato Zeynep di aspettare un figlio da Emir. Questo duro colpo sembrerà un atto di vendetta di Nian per la denuncia di Ozan da parte di Kemal. Sentendosi tradito, Kemal decide di mettere fine a ogni speranza di tornare insieme a Nian, nonostante l'amore che ancora prova per lei. Il passo verso Asu, determinato a chiudere con il passato, Kemal si recerà a casa di Asu. Dopo aver discusso con la sorella e aver compreso cosa realmente stia accadendo, prenderà una decisione radicale. Rivolgendosi ad Asu, le confiderà che Nian sarà sempre nel suo cuore, ma che è giunto il momento di voltare pagina. Vuoi essere la mia compagna di vita? Chiederà Kemal ad Asu. Un nuovo inizio con Asu. Asu, consapevole della complessità della situazione e dei sentimenti di Kemal, accetterà senza esitazione la proposta. Prometterà a Kemal di impegnarsi a farlo stare bene e a rispettarlo, desiderosa di costruire una vita insieme a lui. Con questo atto simbolico di sotterrare l'anello di Nian, Kemal segnerà la sua intenzione di lasciarsi alle spalle il passato e iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Asu al suo fianco. Le vicende che coinvolgono i protagonisti della prima stagione di Endless Love continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, offrendo emozioni e colpi di scena inaspettati.